Voglio ricordare che noi ci riuniamo oggi, proprio perché è esattamente rapito, come sapete, a Raqqa in Siria e tra i senatori e i deputati nel dire che l'ottisodio e soprattutto nel dire da parte del governo, dell'Università degli Esti e delle altre istituzioni che noi non abbiamo dimenticato questo rapimento e ci continuiamo per quanto possibile a lavorare con assoluta costanza, come io personalmente ho confermato, la premetto di più questa parte di naturalmente cooperazione internazionale, direi che l'evolversi le nostre deliberazioni sulle missioni.